si è inaugurato ieri sera martedì 21 giugno la prima edizione di allora fest festival internazionale di cinema arte e musica sul palco l'estito per l'occasione nella villa comunale di ustuni gli attori jeremy irons e marisa tomelli l'ottica del festival e il regista edoardo whisper che apre il festival con un cortometraggio dedicato gli olivi di puglia ottite speciale alex del piero in vacanza qui in puglia a sorpresa è arrivato il regista americano abel ferrara cosa pensi di ustuni di questo festival meraviglioso meraviglioso si si bellissimo bellissimo